D'altro canto, i figli cosa possono mai essere? I figli, che diversamente si chiami ossa o strepiti o comportamenti animali, sangue e altri istinti basilari, un tuono possono, seguito da altri tuoni, qualche assaetta, infliggono ferite non infette come noi precedentemente fatto, eccetera, poco altro, loro formano questo, un lascito di opposizioni tradotto in pensamenti umani lanciati al futuro lontanissimo o declinati. Ha deciso da sé che il mondo si svuota, lo vede già, lo ha visto, è così, vuoto deve essere di umani, di corpi dementi, è così restare vuoto, di pensieri affini al niente, di vuote azioni inconcludenti, fatte per fare così, portate meccanicamente in avanti, al non produrre il bene, mai, in alcuna forma, comunque, le si progetti, Sarai sempre in errore, cadrai sopra la guzzo delle pietre di cui è costellata la terra, finirai, sgomento, svanirai nel fondo dell'orrore, dice, prima di alzare la mano, il vuoto a creare. Tutto, ma proprio tutto quello che resta di un clamoroso destino è qui, sul tavolo, nelle sue forme, belle cose, nelle sue apparizioni concrete, solo oggetti, quindi, Tipo l'accendino giallo-arancio comprato dal marocchino per caso, incontrato, il perché non si ricorda, proprio non si sa, ma ha pagato lui correttamente, moto d'animo comunque avvenuto, ci sta, persino le pietre direbbero ci sta, è corretto. Con al fianco l'ultimo libro arrivato, avuto uno sbaglio, da quell'ufficio con cui si hanno relazioni informali, costanti però nel diagramma degli anni, quasi amicali, oramai sempre reciprocamente servili, tazzina del caffè con sifondi oscuri, tovaglia scostata di lato, tacquino, penna e lontano, mai sapere quanto precisamente, però lontano da te i millanta anni siderali, spazio profondo dell'orrore puro, percepibile e sfocato, Chiaramente, a tuo dire, l'abbagliare di questo cane fantasmatico in pieno giorno, per stazza, per mansioni, un cane scorporato da sé, bestia, sì, tale resta, non all'interno del contenente, ma completamente fuori, estroflesso, né ossa, né denti, né cuore, solo abbaio, emesso per giunta chissà dove, dislocato ovunque, privato della sua prima funzione animale, credi, meraviglia o paura, suono invisibile, pensi del tempo presente, Lui, di niente appiglio Ora che finalmente libero si pensa dai dolori, attinge al suo pensiero chiedendogli, pensami, che altro pensiero non esista, per te nel momento del pensare liberamente, nel movimento dell'idea pronta a concretizzare se stessa, Da questa sponda, da questo renile, verso l'aperto mare, a farsi concreta acqua del pensiero nel quando si pensa, quando e se qualcosa si va pensando, nel corpo proprio del pensiero, intriso di parole, inciso dal filare dei ragionamenti vari, capace di uno o più pensieri a se stessi asserviti, come nella facoltà intera del pensarsi, così vaga ad aggiungere a compimento, ecco perché gli dice, pensami, non può chiedere altro. Non ordinargli amami oppure odiami, non prendimi né lasciami, tanto alfa quanto omega, diritto opposto a rovescio, piacere contro dovere, zero a precedere l'uno, poi linea, punto, fine, mai.